ok, prego, non fai niente, no no, sono solo così abbiamo un esempio di porcellana la porcellana non è porosa prima apriamo i pori sempre leghe, plastica, porcellana apri i pori dopo apri i pori, incoliamo prima lo troviamo in posizione questo dobbia essere quello grosso questo qua no, questo questo qua questo porcellana non è gomma, non è metallo, è lega serve sempre un tempo quando sono due pezzi è molto difficile perché si sempre vede bianco però non si può fare ideale apri i pori proviamo la posizione con questo è sempre un casino perché dove sono due pezzi giusti però dobbiamo stare pazienza mettiamo la colla piano piano eh, questo è in vivo non è moderato Pasco fa tutto in vivo senza montaggio qua dobbiamo rinforzare con catalizzatore si vede bianco però si può carteggiare e colorare a casa un po' di rinforzamento non fa niente signore si vede bianco però si può colorare nessun problema polizia con la mano è meglio come con straccio e finiamo qua dopo una mezz'oretta carteggiamo coloriamo con colori grazie grazie grazie